E' sempre braccio di ferro sull'aumento della tariffa degli stalli parcheggio a pagamento di Catania gestiti dalla società partecipata a sostare. La questione è ferma in Consiglio Comunale che tornerà a riunirsi la prossima settimana per valutare l'approvazione. Intanto la ConfCommercio Ascom segnala in una nota che adeguare la tariffa sulla base di un'inflazione ferma da tanti anni appare francamente solo un pretesto. L'Associazione dei Commercianti ricorda inoltre che anche a Catania la sosta breve, quella fino a 20 minuti, costa un terzo in più che a Roma e la delibera per come è strutturata non interverrebbe per debellare il fenomeno della sosta passiva.